gentili telespettatori buona giornata beh vogliono tagliar fuori fratelli d'italia anche con il 30 per cento non riuscirebbe a governare 30 per cento è quello che pensano molti che possa raggiungere giorgia meloni con fratelli d'italia come voti alle prossime elezioni politiche 30 per cento giorgia meloni vuol dire una lega tra il 5 e l'8 per cento non so se salvini riuscirà a perdere tutti questi elettori in una volta perché passare dal 34 al 8 per cento in così poco tempo non è facilissimo però ci può riuscire se si impegna ancora come si sta impegnando adesso ci può riuscire ma chi vuol tagliar fuori fratelli d'italia e tutti tutti la sinistra più il centrodestra che del governo lega e berlusconi da tempo già da tempo sia berlusconi salvini lavorano per ostacolare in tutti i modi giorgia meloni perché era diventata il primo partito e per giorgia meloni così c'è in vista una fregatura elettorale veramente enorme per governare non potrebbe bastargli nemmeno prendere il 30 per cento la legge elettorale fa la maggioranza per favorire la stessa maggioranza e per sfavorire l'opposizione matteo renzi dice la priorità non è la legge elettorale la priorità non è la legge elettorale vabbè renzi lo dice perché ha paura che cambiando la legge elettorale anche lui rimanga fregato con un partito piccolo però nel caso di fratelli d'italia ci sono dei sospetti quello della meloni è l'unico partito a non sostenere il governo draghi non solo fratelli d'italia è stato anche il solo movimento non appoggiare il bis di mattarella un doppio strappo politico che secondo giovanni orsina direttore della luis school of government potrebbe costare carissimo a giorgia e ai suoi fratelli pesa peraltro lo stato dell'alleanza di centrodestra che realmente il giornale parla di commatoso io direi finito finito con un salvini che fa il salvini è impossibile costruire un centrodestra questo lo diciamo anche i leghisti al partito la lega che con quel segretario che poi il partito è suo quindi con quel segretario la lega non va più da nessuna parte non funziona il centrodestra salvini vorrebbe rappresentare il punto centrale il punto di tenuta ma non ci siamo orsina dice che senza questa legge elettorale non ci sarebbe neanche più il centrodestra perché ci sono divergenze interne sia politica sia di natura personale la proposta di salvini di formare un partito repubblicano che poi in italia già esiste PRI partito repubblicano italiano fa ridere ma veramente ridere è un partito che già esiste dal 1895 ed è un partito di sinistra e lui vuole fare il partito repubblicano il potrebbe essere il prs partito repubblicano salvini il prs vabbè insomma vogliono comunque cambiare l'impianto della nuova legge elettorale per fare in modo di frenare giorgia meloni di impedire che possa andare al governo da sola o con magari solo un altro alleato e questo è il rischio che era si era palesato nella prima repubblica come fu tagliato fuori nella prima repubblica l'allora partito comunista senza che vi siano la grammatica istituzionale i partiti forti della prima repubblica quindi un salvini che sta che ha appoggiato la sinistra per fare rileggere mattarella che sette anni prima avevano scelto loro potrebbe subire ed essere cacciato anche lui con la meloni salvini è caduto nel gioco di letta letta ne è uscito vincitore letta è riuscito a fare rileggere mattarella e sì l'avevamo sottovalutato sinceramente quindi un salvini che si è fatto fregare in maniera enciclopedica sul presidente della repubblica e ha dimostrato di non essere realmente un grande politico ma tutt'altro che grande politico un piccolo politico che di fronte dei giganti del poltronismo come letta ha perso quando si parla di poltrone la sinistra è imbattibile imbattibile potrebbe fare dei corsi universitari con questa materia proprio poltronismo in politica bella molto complicata come materia quindi salvini potrebbe farsi tirar dentro sulla modifica della legge elettorale cascarci con tutte le scarpe e poi prendere la fregatura che al prossimo alle prossime elezioni sia la meloni che lui voleva fregare anche lui verrebbe fregato insieme alla meloni fantastico e potrebbe succedere dopo che ho visto quello che è successo col quirinale salvini che corre quando gli telefono alla sinistra abbiamo un candidato arrivo 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 tremendo no doveva andare dalla meloni pianta tutto perché la sinistra l'ha chiamato abbiamo un candidato e lui ha corso mamma mia che tristezza mi si raccontare queste cose mi si infonde una tristezza veramente pesante come una cappa plumbea no una nebbia densa a sentire le le quirinalate della settimana scorsa veramente scuola di bassa politica no non di alta politica scuola di bassa poi l'alta politica la fatta letta è riuscito è riuscito in un'impresa difficilissima con una minoranza di voti è riuscito a fare leggere chi voleva lui e se questo non è un vero politico ditemelo voi è è un vero politico del poltronismo non è non è quei politici che risolvono i problemi degli italiani che risolvono problemi di economia lui risolve i problemi del pd e della sinistra non a caso la sinistra voi lo sapete che è anni e anni che governa senza vincere le elezioni questo è un'arte è un'arte mettila da parte fa anche rima bene il proporzionale potrebbe fregare lui magari lui cercando di fregare la meloni col proporzionale rimarrebbe fregato anche lui e se ne avvanteggerebbe la sinistra e col proporzionale potrebbe tirar dentro un sacco di partitelli perché la sinistra è piena di partitelli satelliti piena bene io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata ci vediamo al prossimo video arrivederci a tutti